Il calcio è la mia vita, mi piace tanto. Il calcio è la sua vita, ma in passato è stata anche la sua salvezza. Adama, 19enne, viene dalla costa d'Avorio e sin da piccolo ha sempre sognato un futuro da calciatore. Ad appena 15 anni è dovuto scappare dal suo paese d'origine. La sua fuga è iniziata proprio da un campo da calcio. La polizia è andata a casa sua per cercare il padre per motivi politici. Lui stava proprio giocando a calcio, quindi grazie a questo è riuscito a scappare, appunto perché è stato avvisato del fatto che la polizia era andata a casa sua. Quindi un amico l'ha avvisato e gli ha dato un po' di soldi per poter scappare. Dalla costa d'Avorio il viaggio di Adama è proseguito poi attraverso il Mali sino alla Libia, dove è vissuto l'incubo della prigionia. L'ho fatto due anni senza mangiare, sempre per bere l'acqua e basta. E tutte le mattine loro mi picchiano. Adama è riuscito ad uscire dal carcere grazie alla compassione di una persona. È arrivato così in Italia e poi ad Arezzo dove ha ripreso a giocare a calcio. Adesso indossa la maglia dell'Arezzo Football Academy, giocando sia in prima squadra che nella Juniores. Ma Adama ha già sostenuto due provini per due squadre importanti e a primavera ne farà altri. All'inizio era chiaramente un pochino più chiuso, anche con i compagni, mentre adesso è l'idolo di tutta la squadra. Quindi quando segna viene sempre sotto la tribuna, tutti fanno tante feste perché se lo merita. Comunque è un ragazzo d'oro, è bravissimo e si impegna tantissimo. Quindi si merita di avere una chance. Infine a breve finirà anche il progetto Arci dove Adama è stato inserito. C'è stata la possibilità di trovare un alloggio, quindi potrà proseguire a rimanere nel territorio con un supporto iniziale anche sempre previsto da parte del progetto e dell'associazione per poi continuare a giocare a calcio qua, rimanere nel territorio e coltivare il suo sogno. Io voglio fare da grande per diventare un giocatore.